Voi mi conoscete molto bene e sapete che sono una persona decisamente nostalgica Quando scavando nell'archivio ritrovo dei file che non avete mai visto Decido così dal niente di caricarveli sul canale, di mostrarveli E anche in parte ridicolizzarmi alla grande rispetto a ciò che non era stato mostrato all'interno di un video Quindi passo la parola allo stepney ricercatore che ha trovato dei file che ormai erano praticamente perduti Ci vediamo tra poco Buonasera a tutti sono lo stepney ricercatore e volevo mostrarvi ciò che purtroppo non era stato inserito All'interno della penitenza dello step vs food dei pop corn Allora io non volevo farlo però ho perso la scommessa della challenge dello step vs food con i pop corn Quindi verrò sotterrato con un tempo schifoso al mare da chili di sabbia Mi rimarrà solamente la testa fuori, questa è la mia penitenza di oggi Non ho molta voglia di farla ma devo farla È piovuto fino adesso ve lo giuro è tutto fradicio Non so se deve per terra ci sono le pozze Adesso ci buttiamo sulla spiaggia, facciamo ciò che dobbiamo fare e ci vediamo tra poco Il succo è che ero al mare, era il giorno successivo al made in internet di follonica e dovevo registrare questa penitenza nel mare con la sabbia giustamente Con un piccolo dettaglio, quel giorno è venuto giù il diluvio universale e ve lo giuro sulla mia vita in spiaggia non c'era nessuno, è caduta tutta l'acqua possibile e immaginabile Ma considerando che le immagini parlano e raccontano sicuramente meglio di me, ecco a voi le clip del video Bene, meglio Andate a noi in mare ci fa schifo quindi Preferiamo? Un po' di Milano Ma guarda che roba, no dai Fanculo In questa impresa ardua mi ricopriranno Alessandro e Sofia Che sono pieni di voglia di farlo Io per niente Adesso mi distendo e mi faccio sotterrare Grazie Giuse per avermi lanciato questa sfida se stavo veramente gentile Giralo se vuoi Che dire Qua? Qua? Perchè non ho? Nooo Dai infilati un po' qui Come infilati un po' qui? Ahahahah Eh bravo così, così Vedi me ci aiuti Ma anche nel video? No, no, tutto sarà nella faccia Si Oh porca puttana Ma non ci fai canna Si, questo video dura 20 minuti No, no, va in timelapse Eh? Oh porca Eh? Oh porca Eh? 2 Aspetta Che non vuol dire piccataia Che non editi più i video Che non fai più niente Stanno piovendo Sei solo un montato che non fa neanche più gli editing Alessandro che scherza e mi prende in giro Non sa che i video più speciali Quelli più fighi Vengono montati da Pica Che è un ragazzo davvero molto bravo Vi lascio il suo link anche qua sotto in descrizione Andate a vedere cosa ha fatto sul suo canale Che ci sono tantissime creazioni incredibili Tutto fake Che sto facendo adesso Tutto finto Che sto facendo adesso Tutto finto Alessandro aiutami i piedi Nooo Grazie eh Veri amici Ti sparano anche la sabbia in bocca Che gentili Ma porca Sei bella e stanca No vabbè anche da me Le penitenze Quante volte ho sputato in questo video Non lo usare Scusa scusa Dai una mano o no? No Guarda come fai? È tutto free No Io vorrei solo dire che sta piovendo Se non c'è nessuno in spiaggia ci sarà un motivo no? Eh sono le 5 del pomeriggio Fa freddino eh La sabbia era fredda Proprio fredda fredda Era fredda Beh ma riprendi in giro Ti aiuto Ti aiuto Nooo Non ti devi muovere Adesso mi piace il piappone Cioè penso che una volta già andrei l'ultima volta ho venuto Tre anni Però devi stare fermo Sono lì Aia Me lo stai Me lo stai Me lo stai con tu Vai Sta cominciando forte Porca Sta cominciando molto forte Mi fai un cuscino dietro la testa mi piace Fai La posizione lì per terra con la sabbia fredda Era decisamente scomoda Quindi cercavo in qualche modo Di piazzarmi un cuscino fatto di sabbia dietro la testa Per non stroncarmi l'osso del collo E vi garantisco che si congelava Guarda che dopo voi braccia non lo stai più muovere Dopo No allora Guarda che lavoro Cioè io collaboro pure Alessandro si diverte Non voleva venire invece Fa un cazzo Che cazzo volete? Sto facendo una parte dura del lavoro io Una parte dura? Ma che fiatone che c'ho Dagli una mano No ho finito Ho finito Aspetta te li muovi? Dai Stefano Sotto la pioggia di Follonia C'è un cuglione C'è un coglione Che si fa ricoprire E non ci pensa più Non ci pensa più Lo faccio per voi Poi ovviamente farò il bagno sotto la pioggia Ci manca solo un fulmine dell'acqua e ci divertiamo Non mi posso più muovere guarda sei immobile Si muovi Kevin? Il muovi Perché nessuno mi ama Buonanotte Vai Come vai? Hai finito qua nel vecchio So coperto? Aspetta che inquadro tutto Io voglio che si veda la pioggia Sei una mummia sei Che bei nuvoroni sopra Piano Piano E adesso è arrivata la parte bella No 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 Ale no Non solo la sabbia A un certo punto ha ben deciso Alessandro Di calpestarmi E di sedersi sopra di me Si scape la spalla C'è qualcosa che non va? Aiuto Ha distrutto tutto eh Te lo dico Guarda guarda laggiù Peggio dei canteri Ragazzi io se non vengo finato questa A pedagli di guido Stecco mi pagherai la Sofia? Dio al pubblico Eh? Femini friendly Soprattutto Io voglio un cavallo Un cavallo E chiudiamo questo video eh Va bene? Rifalla che te lo faccio da... Direi che la mia penitenza l'ho pagata Adesso vado a fare il bagno Non c'è nessuno Vorrei far... Ale anche la Sofia decide di saltarmi sopra E di farmi perdere 3-4 costole Tanto non mi servono per la cassa toracica E' buona la sabbia? E' buona la sabbia? Dovevo partire per andare da Follonica A Castiglioncello Che è un'altra località di mare E dovevo farmi circa un'ora di viaggio Sporco completamente Perché non avevamo un punto in cui poterci lavare e cambiare Ciao a ste Ciao Soffi andiamo? Nooo Ciao a ste Ciao Come ciao? Ciao Lasciamolo vivendo Ah che bei ricordi Sarebbe figo tornare al mare Oh vai E via Cosa stai facendo? Chiudo? Vai Allora Adesso è sempre in tutto Salutare anche voi Cioè se no Che tiri No hai finito? No sta andando avanti quello tagli Saluta anche te No con l'occhio così no Ma non ti si vede Ma non si è sempre in tutto Gira se di te Non so come si ferma Vai Si ferma da solo eh Magico Mi è spento? No è ancora acceso Premi quello rosso Qua? Sì Questo e questo? Davanti a te Questo e questo? Questo va bene Ragazzi il video è finito Come dite devo rendere la linea All'altro step Ok è stato un piacere eh Cercherò altre cose solamente per voi Ciao Ora voi spiegatemi Per quale motivo Lo stepni ricercatore Si è sentito in dovere Di commentare tutte quante le clip Non mi resta altro che salutarvi Perché il video è finito Quindi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao